Oh sì, oh sì, oh sì, oh sì! Oh, salve! Sono Claudio di Final Fantasy VII e siamo stati trasformati entrambi in un paio di maledettissime rane. Non possiamo combattere così, siamo rane! Niente paura, Barret saprà cosa... Fare! Possa via! Oddio... Ah! Schifo! Oh no, vi vendicherò! Bravo Q. Nessuno dovrà sapere cosa abbiamo fatto oggi. Oh no, vi ho sapere cosa abbiamo fatto. Oh no, vi ho sapere cosa abbiamo fatto. Oh no, vi ho sapere cosa abbiamo fatto.